Passiamo all'esempio di un altro soggetto pubblico che utilizza la normativa regionale per provare a riqualificare i fiumi, quindi Regione Piemonte, Mancina. Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito a CIRF, saluto tutti i presenti e non soltanto ringrazio per l'invito ma anche perché oggi vi parlerò del bando che abbiamo fatto per finanziare la riqualificazione dei corsi d'acqua, quindi con un esempio concreto di applicazione del principio per cui l'acqua paga l'acqua e ho visto che il sito CIRF nella sezione Buone Pratiche Regionali già ospita il nostro bando, quindi anche questo mi sembra un bel segnale. Da dove partiamo? Partiamo innanzitutto dalla considerazione in base alla quale l'articolo 9 della direttiva Quadro sulle Acque che prevede l'adeguato recupero dei costi, che prevede l'applicazione dell'analisi economica ai piani di bacino, è indietro, è indietro non solo in Italia e proviamo, abbiamo provato anche con qualche piccola esperienza in Regione Piemonte, a riuscire a ricucire la parte tra il costo ambientale e l'applicazione delle misure riqualificative. Ma partiamo pur sempre dai piani. I piani ci dicono che le pressioni significative sul reticolo piemontese sono essenzialmente delle alterazioni morfologiche e dei prelievi, quindi significa che nella più parte dei casi ciò che determina lo scadimento e alle volte anche il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali è ascrivibile a queste due tipologie di pressione. Vedremo quindi, brevissimamente, cercherò di stare nei tempi, come con gli strumenti dell'analisi economica e dei bandi di riqualificazione, proviamo ad aggredire questo tipo di fenomeno. Intanto vi faccio anche vedere che rispetto all'analisi condotta per la revisione del PTA, in Piemonte il 55% delle acque superficiali raggiunge l'obiettivo di buono, mentre il 31% raggiunge l'obiettivo di sufficiente. Questo dato è importante perché in questo 31%, che quindi è una percentuale significativa ed è il nostro target per riuscire ad approcciare, ad avvicinare gli obiettivi di qualità ambientale, molti dei corpi idrici trattati sono lì tra il sufficiente e il buono, quindi è a quelli che prioritariamente ci rivolgiamo per fare il trapasso dallo Stato sufficiente all'obiettivo di raggiungimento dello Stato buono. I riferimenti sono certamente quelli europei, la direttiva 4, l'articolo 9, il regolamento ministeriale febbraio 2015 che finalmente è stato il primo documento a livello nazionale che ci aiuta anche a compiere questo tragitto di applicazione del recupero di costi ambientali all'interno della pianificazione e poi per quanto riguarda la mia regione, la regione Piemonte, il regolamento 15R sui canoni che destina un 5%, almeno un 5% dell'introito dei canoni di concessione per il finanziamento delle misure di piano. Approfitto per dire che con la revisione quest'anno del piano di tutela delle acque in Piemonte abbiamo introdotto un apposito articolo 45 che andrà a consolidare il discorso del bando. E parliamo di bando. Il 9 marzo 2018 la regione Piemonte è uscita con una delibera importante perché ha detto mettiamo 1.260.000 euro specifico sulla riqualificazione fluviale. Non è la prima volta che la regione mette dei soldi sui fiumi, è la prima volta che lo fa con esplicite intenti di riqualificazione fluviale. E lo fa con esplicito riferimento alle KTM, la 5, la 6, la 18, la 23, che sono quelle che vediamo più sofferenti e in base alla percentuale di non raggiungimento dei corpi idrici sono quelle da aggredire. Quindi la regione concentra le risorse su misure specifiche che desume dei piani che derivano dall'analisi di pressione e lo fa con dei bandi di finanziamento per gli enti pubblici dove va a premiare il grado di coerenza dei progetti che sono pervenuti rispetto al piano di gestione. Il grado di compartecipazione perché si vuole anche evitare che 1.260.000 non si identifichi in una distribuzione a pioggia ma ci siano dei progetti il più associati possibili per Asta e soprattutto il grado di coerenza con altre politiche, con altri programmi di valenza ambientale che possono essere diversi, vedremo quali. In tutto questo naturalmente la regione Piemonte raccoglie anche un po' l'eredità della pratica che ha fatto in 10 anni 11 di contratti di fiume dove è importante operare per Asta, è importante integrare le politiche, è importante favorire la partecipazione degli enti locali. E quindi vedete che i criteri a cui ci siamo ispirati sono quelli che se gli interventi proposti subando da parte degli enti pubblici sono applicazioni di piani d'azione che sono scaturiti dal basso, sono scaturiti nel contesto dei contratti di fiume avranno una primarietà maggiore, così pure i progetti migliori, più dettagliati, così pure quelli che al tempo stesso vanno sugli obiettivi direttiva quadroacqua e su quelle 4-5 KTM che abbiamo enunciato ma magari aggrediscono anche il tema delle misure win-win che troviamo nel piano di gestione del rischio alluvioni. Ma soprattutto quello che ci interessa è che vadano sui corpi idrici in stato sufficiente. Ricordate prima abbiamo detto che il nostro target sono quei corpi idrici in stato sufficiente che sono lì per arrivare al buono, non ce la fanno, diamo una mano con degli interventi specifici. Questa è un po' una tabella di marcia, non ve la sto a dire per sinteticità, per concisione, ma quello che è importante è che la freccia rossa indica dove siamo come processo, quindi significa che siamo perfettamente in linea con i tempi che ci siamo dati, se non addirittura nel leggero anticipo. Per i primi 10 giorni di novembre dovremmo uscire con la graduatoria che in questo momento è oggetto delle nostre valutazioni ponderali. Questo è un esempio dei progetti che sono pervenuti. Il primo dato, come vedete, è che siamo riusciti nell'intento di mettere in moto il Piemonte. E quindi i progetti arrivano un po' da tutta la regione e interessano un po' tutto il reticolo. Se vi ricordate, nella prima diapositiva dove individuavamo con il colore giallo gli stati sufficienti che interessavano le parti di reticolo per lo più di pianura, vedete che anche qua il bersaglio è centrato, perché i progetti sono proprio collocati tendenzialmente su quelle aste in stato sufficiente. Anche qui sono indicate le KTM che sono oggetto di richiesta. Vedete che si spazia dai classici interventi di riqualificazione fluviale, per esempio per migliorare la continuità longitudinale, oppure per realizzare dei passaggi per i pesci, oppure per la KTM 18, contenere le specie esotiche invasive. E poi ci sono interventi anche che mixano le varie KTM, che sono anche molto interessanti, perché utilizzando i meccanismi del bando, benché presentati da enti pubblici, associati tra loro, magari anche in modo trasversale, quindi non solo comuni che si sommano, ma comuni più l'ente parco, più la provincia, quindi anche qui a riflettere un po' quella esperienza trasversale che attraversa tutti i livelli amministrativi che abbiamo tesaurizzato nei contratti di fiume, ebbene, in qualche caso anche con la possibilità offerta dal bando di presentare dei progetti in partnership con i consorzi. E sono progetti tendenzialmente molto interessanti, perché vediamo che c'è anche un mondo di consorzi che, se abbiamo visto che talvolta sono a determinare delle pressioni ambientali per l'esercizio delle loro legittime funzioni, alle volte però vedono anche lungo e per esempio ci hanno proposto di mettere dei misuratori in continuo sul rilascio del DMV, che sono poi quelli che vanno a determinare la presa, quindi rovesciando l'approccio non è più il DMV ciò che resta da dare all'ambiente, da elargire all'ambiente dopo che io uso l'acqua, ma è il DMV che comanda quant'acqua prelevo, che poi è quello dove vogliamo andare a cadere. Quindi tutte buone pratiche che con un bando siamo riusciti a innescare, naturalmente affiancato a tutta una serie di altre misure, quelle regolamentari eccetera, che continuano a rimanere, ma ci fa piacere che comunque ci sia un po' una voglia di fare cose nuove e di proporle da parte degli utenti dell'acqua. Quindi un primo bilancio è possibile perché come vi ho detto non abbiamo ancora la graduatoria definitiva, ma siamo molto vicini ad averla. Intanto abbiamo visto che i progetti presentati, quindi quelli illustrati nella diapositiva precedente, hanno tendenzialmente una buona coerenza con il PTA e con il PDG e non è una cosa così scontata, perché avevamo un po' l'immagine per la quale il PTA, il PDG, questi sconosciuti e invece ci ricrediamo anche in località decentrate, in posti sperduti, potremmo dire, in valli molto molto lontane dalla capitale del Regno Sabaudo, si conosce il PTA. Questo ci fa molto piacere perché invece spesso anche quando si parla con gli addetti ai lavori non sempre il PTA è un oggetto conosciuto. Si sa che c'è, ma poi di che cosa parli sono concetti un po' vaghi. Un rilancio dei contratti di fiume, perché molti dei progetti, i progetti presentati sono stati una dozzina, i comuni interessati molti di più perché sono in forma associata una trentina, i punti di intervento una ventina. Ma quello che è bello è che molti arrivano dai contratti di fiume, quindi sono interventi già visti all'interno di una procedura partecipata, partecipata tra tutti i livelli dell'amministrazione, partecipata con i soggetti privati, sottoposta a VAS, quindi già depurata da una serie di impurità di processo e adesso possono avere la possibilità di essere cantierati con un finanziamento regionale. La coerenza, la trasversalità con più politiche ambientali la vediamo soprattutto su quelle che la direttiva Luvioni chiamerebbe le classiche misure win-win e poi un altro elemento che personalmente trovo di estrema soddisfazione, visto che è anche il primo bando che facciamo, quindi l'abbiamo anche precisato, ci lanciamo un po' nel vuoto senza la rete, però con estrema soddisfazione vediamo che le amministrazioni si sono date da fare in poco tempo, si sono date da fare in poco tempo per fare i progetti, per associarsi, per cominciare ad acquisire i permessi, i pareri che ci vogliono poi per concretizzare i progetti definitivi e quindi questo ci fa piacere perché siamo contrari a una logica in base alla quale esiste una regione staccata dal mondo che pianifica e poi c'è tutto un mondo che deve obbedire. La nostra concezione, anche qui figlia di anni e anni di contratti di fiume, è differente, ci sono degli obiettivi ambientali, sono sull'acqua, l'acqua è di tutti e quindi gli obiettivi devono coinvolgere necessariamente qualsiasi livello istituzionale oltre che i portatori di interesse. Io credo di essere stato nei tempi, vedete che ci sono i riferimenti per poter contattarci sia alla posta elettronica che al sito dove trovate pubblicate tutte le cose che facciamo, ma soprattutto vi invitiamo anche a partecipare alla piattaforma web che abbiamo creato per fare un forum virtuale sulle acque e forum web acque la trovate su internet con una semplice ricerca e potete farvi accreditare. Si parla di acque, si concretizza anche attraverso forum web acque quella procedura partecipativa che nel PTA abbiamo ancora ulteriormente rafforzato con questa revisione 2018. Sei stato perfettamente nei tempi, quindi questo lascia spazio anche a più di una domanda eventualmente. Sì Paolo, grazie per la bella presentazione. Una domanda sorge immediata, nel senso che tu si esordisci con una slide che dice i problemi nella nostra regione sono la pressione idromorfologica e i prelievi. Quindi abbiamo fatto un bando, 1.200.000 euro. Allora, ti chiedo, ma che quota è questa del budget delle misure del piano di tutela delle acque? L'1%? 2%? Allora, te lo chiedo perché evidentemente la presentazione è molto bella però salta agli occhi questa... Ma ti rispondo subito, nel senso che se io faccio una stima di tutti i costi delle misure del piano ottengo dei numeri impossibili da raggiungere ed è un freno questo, a mio avviso. L'approccio è molto più terra-terra, cioè si dice seguendo la filosofia che a me sembra magari anche un po' tagliata con l'accetta però efficace, del decreto 2015, per cui ci sono i metodi per stimare i costi ambientali. Qualcuno è stato presentato stamattina per calcolare il valore dell'esternalità positive. Però, in definitiva, se aspettiamo di fare tutti i conteggi, trovare un metodo che si è condiviso, i fiumi nel frattempo li perdiamo. Il decreto, come sapete, dice facciamo che un proxy dai costi ambientali da recuperare col piano sono la somma dei costi delle misure. È evidente che 1.260.000 sul 2018 è, io non l'ho neanche calcolata, è una percentuale molto bassa, però il punto che è da sottolineare è un altro, cioè che un'aliquota è interamente finanziato sui canoni di concessione. Io questo forse nella presentazione non l'ho detto, l'ho dato per scontato, non va dato per scontato, perché sappiamo che invece l'articolo 9 della direttiva 4 ci dice che il gettito dei canoni di concessione va utilizzato per quelle finalità. Quindi è questa la forza del processo. La seconda cosa è che sarà poco, sarà tanto, ma intanto c'è tutti gli anni. Anticipo che probabilmente la quota di 1.260.000, visto il successo dei bandi, l'amministrazione sta valutando di alzarla perché piacerebbe all'amministrazione della regione Piemonte riuscire a finanziare tutti i progetti che passano il livello di sufficienza e consideriamo che è costante tutti gli anni, quindi si può fare una pianificazione. Se partiamo dal presupposto che a livello di Bacino, a Parma, quando facciamo le riunioni tra regioni con l'autorità di Bacino del Po, il filone scoperto è sempre quello idromorfologico. Significa che comunque stiamo riuscendo a fare la triangolazione, probabilmente anche la triangolazione giusta. Se poi lo sommiamo con le altre logiche, non le illustro oggi, ma per chi può essere presente domani al Ministero dell'Ambiente c'è una giornata sull'analisi economica nel progetto Creiamo PA e io parlerò della parte sull'analisi economica che stiamo sviluppando. Abbiamo sviluppato una serie di applicazioni del decreto febbraio 2015 in base a cui riusciamo a tarare con un'approssimazione discreta l'ammontare del canone, prerogativa regionale, ricordiamolo, rispetto alle pressioni, rispetto allo Stato, rispetto al contesto, rispetto all'utente, rispetto alle buone pratiche che sono messe in campo dall'utente. Mi sembra che abbiamo trovato una triangolazione, quindi è in questo senso che andrebbe visto un po' i tentativi che con fatica, ma anche con grande attenzione in questo momento da parte dell'amministrazione regionale stiamo mettendo in campo. Un'altra domanda? No, ok, allora grazie, grazie davvero. Possiamo passare...